Ciao a tutti da Diego di TecnoFan.it Oggi parliamo di smartwatch, Apple Watch e Samsung Gear S3 Questa doveva essere la recensione di Apple Watch Sì, lo sarà, parlerò anche di Apple Watch Ma parlerò anche di Gear S3 Perché, paradossalmente, utilizzando Apple Watch con iPhone X Mi sono accorto dell'ottimo lavoro che ha fatto Samsung con il Gear S3 Perché non avevo mai provato un Apple Watch Nella mia mente l'ho sempre ritenuto superiore Ma non è mica vero Gear S3 è comunque un ottimo smartwatch Ecco il perché Allora, ecco i due smartwatch Questo è Apple Watch Quello che ho io è il modello Series 3 Design non è cambiato rispetto alla versione, diciamo, prima Però devo dire che esteticamente a me piace davvero un sacco Rispetto alla Series 2 Ha il retro in materiale composito e non in ceramica Forse era meglio in ceramica Però c'è questo Questo è il sensore per il battito cardiaco È resistente all'acqua 50 metri Quindi potete fare il bagno al mare, in piscina Ed ha una particolarità di rimuovere l'eventuale acqua Nello speaker Facendo questo giochino Vedete, manda degli impulsi sonori Che va a fare uscire le particelle di H2O Dallo speaker Molto comodo da indossare Cinturino davvero ottimo Per chi, come me, ha il polso piccolo Devo dire che è veramente una chicca Questa è la versione da 42 mm Ha il Bluetooth, il Wi-Fi Un display che ha una definizione, ragazzi, pazzesca Bellissimo E ha questa particolare forma del display curvo Che è praticamente odiosissima Perché non si riescono a mettere delle pellicole Pellicole in vetro ci sono Ma sono piccole E sono veramente orribili Ci sono delle coverine da mettere L'ho comprata Ma fa veramente schifo Quindi qual è la soluzione? Visto che avete speso, diciamo, 400 euro Per lo smartwatch Magari potete fare l'Apple Care Con 59 euro Fate l'Apple Care E se poi magari ci date una mina Incontro al muro E si graffia con altrettanti 59 euro O 65, non mi ricordo O 69 Non mi ricordo Quando uno non si ricorda Non si ricorda Ve ne ridanno un altro E quindi potete utilizzare questa soluzione Cinturini intercambiabili Chiaramente non c'ha il classico aggancio Classico per i cinturini Ma dovete comprare quelli Che trovate nei negozi Apple Se volete quelli strafighi che vendono loro Oppure su Amazon Ci sono anche quelli classici Che ve li tirano letteralmente dietro Mentre passiamo a Gear S3 Anche lui è il protagonista di questo video Rispetto all'Apple Watch Ha le dimensioni decisamente più importanti Ha questa ghiera Che ci serve per ruotare Tra le varie notifiche Tra le impostazioni Ghiera comodissima Che ci permette anche di rispondere al telefono Semplicemente girandola Da una parte o dall'altra Chiaramente per rispondere o risiutare la chiamata Abbiamo due tasti Anche qui abbiamo Abbiamo un tasto qua E questa corona Come avete visto Serve per ruotare Da schermo spento La possiamo anche Spendere il display Ruotare per accendere lievemente Vedete Davvero molto molto comoda Tutte e due le soluzioni sono Veramente molto comode Anche questo ha il Wi-Fi Il Bluetooth Si collega con il nostro smartphone E sono diciamo L'ideale per chi possiede un iPhone E chi possiede uno smartphone Samsung E attenzione quando dico Samsung Perché questo è compatibile sia con dispositivi Android Qualsiasi dispositivo Android Più o meno Ma è ancora più compatibile con i dispositivi Samsung Perché se associato ad un dispositivo Samsung Abbiamo delle funzioni che Altrimenti non avremo con dispositivi non Samsung Questo funziona anche con iPhone Con iOS Quindi con iPhone X Io l'ho provato E sono rimasto abbastanza inorredito Perché non funziona O meglio Si disconnette spesso e volentieri L'applicazione non è ottimizzata Addirittura non vi dà neanche la possibilità Di scaricare le applicazioni E di aggiornarle E questo è veramente un peccato In quanto comunque con la versione Diciamo di iOS X e iPhone 7 Si riusciva ad utilizzare con l'iPhone In questo momento Assolutamente no Magari poi Samsung Aggiornarà l'applicazione Lo renderà ancora di più compatibile Ma Comunque È sempre molto castrato Perché non vi dà la possibilità Di rispondere ai messaggi Whatsapp Di rispondere ai messaggi normali Di leggere le mail complete Praticamente funziona da notificatore Che è la solita cosa Che potrebbe fare uno smartwatch Da 50€ Quindi è veramente un peccato Però lo potete usare anche come Viva voce Quindi entrambi i due dispositivi Sono veramente Ottimi Se chiaramente utilizzati Con degli smartphone Magari anche dei top di gamma Perché comunque Apple Watch È l'ideale Proprio L'estensione Diciamo che vi arriva nel polso Del vostro iPhone E mentre il Gear S3 È l'estensione Ad esempio Del vostro Galaxy Note 8 Oppure Galaxy S8 Galaxy S7 Edge L'importante È che sia Uno smartphone Galaxy Per quanto mi riguarda E vi consiglio Anche se funziona Con quegli Android Ma come vi ho detto È un pochino castrato Come vi ho detto Utilizzando Apple Watch Ho rivalutato Una marea Il Gear S3 Perché? Perché ci sono alcune funzioni Che ha uno E alcune funzioni Che ha l'altro E non so come mai Ma nella mia testa Ho sempre pensato Che Apple Watch Fosse superiore Adesso C'ho il fogliettino Mi sono preso gli appunti Vi dico un pochino Qualche differenza Che c'è Diciamo Tra uno smartwatch E l'altro Innanzitutto Partiamo con le watch face Le watch face Sono le interfacce Queste interfacce Vedete Apple Watch Ci sono quelle predefinite E sono quelle Non le potete Scaricare Dallo store Ad esempio Mentre Per quanto riguarda Il Gear S3 Andate nello store E ve le scaricate E ce ne sono davvero tantissime Alcune sono a pagamento Vedete Questa è la nuova Tra l'altro Si è aggiornato A Tizen 3.0 Ci sono tantissime novità Ed è ancora Ancora migliore Tra l'altro Adesso è calato di prezzo Quindi ragazzi Gear S3 Gear S3 Secondo me È Per quanto riguarda Lo smartphone Android o Samsung È veramente Il top Cioè Fa veramente Il culo Ad Android Wear Che Google Ogni tanto Se lo dimentica E vedo Che anche Comunque Quelli che fanno I orologi Se lo dimentica Perché non ne sono più usciti Ma questo è un altro Paio di maniche Quindi Abbiamo La possibilità Di scaricare Le Watch of Face E di personalizzarlo Ancora al massimo Anche se Comunque Con Watch OS 4.0 Abbiamo la possibilità Di personalizzare Come vedete Questa Watch of Face Di Apple Watch Dove possiamo aggiungerci Delle piccole applicazioni Si chiamano Complicazioni E hanno un nome Veramente Strano Eccetera Eccetera Una cosa che Odio Su Apple Watch Che non c'è La vibrazione Quando si disconnette Mentre è disponibile Su Gear S3 E questa è una cosa Che vorrei Su Apple Watch Ma non c'è Ed è un vero peccato Su Gear S3 Ci sono poche applicazioni Diciamo Gli sviluppatori Non credono tanto In Tizen E comunque Non è che ci puntano tantissimo Quindi Le applicazioni Non è che sono tantissime Però c'è Spotify Ed è veramente comoda Perché potrete Ascoltare Addirittura anche Dallo speaker Dello smartphone Forse la musica Con Spotify Spotify che Non c'è Su Apple Watch Chissà come mai Hanno paura Loro hanno Apple Music E quindi c'è L'applicazione Di Apple Music Che serve Per ascoltare musica Ma io ho Spotify E vorrei Spotify Quindi Spotify Non c'è Però ci sono tantissime Applicazioni Che sono Delle estensioni Che vi danno La possibilità Di utilizzarle Diciamo Senza Aprire Necessariamente Lo smartphone Ad esempio Non è fatta benissimo Però c'è L'applicazione De Il Meteo Vedete Si aggiorna Vi fa vedere Le Ok Non sono ad Arcola Comunque va bene Vi fa vedere Le informazioni Del Meteo C'è L'applicazione Instagram Dove potete vedere Tutti i vostri feed E mettere mi piace Direttamente dallo smartwatch C'è l'applicazione Mappe C'è Messenger C'è Meteo C'è Telegram Quindi potete avere Praticamente Tutto Il vostro Telegram Al polso E La vera Potenza Di questo dispositivo Sono proprio Queste applicazioni C'è l'applicazione Per leggere le mail Stockard Per far Diciamo Apparire le Tesserine Quando andate a fare la spesa Nell'orologio Ce ne sono davvero Tantissime E devo dire Che funziona davvero Molto bene C'è la comodità Di Apple Wallet Che se siete in treno Vi visualizza direttamente Lo scanner Del biglietto Nell'orologio Ragazzi Sono cose che Apple Sa fare Sa fare davvero Molto molto bene E soprattutto Gli sviluppatori Ci hanno creduto Peccato che alcuni Ce ne sono andati Ad esempio C'era Google Maps Non c'è più C'era l'app Amazon Non c'è più C'era l'app di Ebay Non c'è più Non si sa il motivo Google ha detto Che dovrebbe ritornare Google Maps Peccato perché Chi l'ha provato Mi ha detto Che diciamo Era davvero Molto ben fatta Quindi Ritornando sempre Le differenze Gear S3 C'è una cosa Che mi piace Parecchio Per quanto riguarda Il monitor Di una camminata Ad esempio Se io cammino veloce Lui sa che Ho camminato veloce E quindi Lo prende Diciamo In modo automatico Mentre Su Apple Watch Questo non c'è Cioè Se voglio fare una camminata E monitorare magari Il percorso Eccetera Gli devo dire io Che sto parlando Per la camminata Questa è la cosa Che sinceramente Mi aspettavo Che ci fosse Un'altra cosa Che mi aspettavo Ci fosse Il monitor del sonno Ragazzi Apple Watch Non ha il monitor del sonno Se voi Venete a letto Con il vostro Apple Watch Quando vi svegliate Lui non è che vi dice Ah hai dormito Un tot di ore Mentre Su Gear S3 È presente Pare che arriverà Con un nuovo aggiornamento Sapete come sono loro Vi danno le cose Centellinate Piano piano Perché si sono comprati Un'aziendina Che fa queste cose qua Però Veramente un peccato Perché Me lo sarei aspettato Presente sul dispositivo Viva voce Entrambi ci possono usare Come Viva voce Gear S3 Ha un volume Che secondo me È tipo il doppio Rispetto a Apple Watch Molto comodi Entrambi Per rispondere Alle chiamate Anche se Mi sarei aspettato Un volume Un pochino più alto Per quanto riguarda Il viva voce La vibrazione È più forte Sul Gear S3 Qui abbiamo Il classico feedback Aptico Quello che c'è anche Sull'iPhone Quei colpettini Che io li sento Però Secondo me Potrebbe essere Più forte E magari Ad alcuni Non può Diciamo Non possono Gli può dar fastidio Il fatto di non sentirlo Un'altra cosa Questo come ho detto È 50 metri Invece questo È soltanto resistente All'acqua E agli spruzzi Nel senso che Ci si può fare una doccia Ma è assolutamente Vietato Immergerlo In acqua O comunque Portarlo al mare Eccetera Eccetera Perché potrebbe Smettere di funzionare Entrambi sono due ottimi Fitness tracker Hanno Mille 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 funzioni Apple Watch C'è anche il controllo Del battito cardiaco Continuo Che presenta anche Su Gear S3 Vi avvisa se avete Delle anomalie cardiache Questa non c'è Su Gear S3 Comunque Entrambi sono molto Molto precisi E anche molto belli Graficamente Soprattutto è stata rinnovata La grafica Con Tizen 3.0 Su Gear S3 E devo dire che Hanno fatto davvero Un ottimo lavoro Per quanto riguarda le notifiche Abbiamo un accesso completo Alle notifiche Sia su uno Che sull'altro L'unica differenza È che Whatsapp Su Tizen Ad esempio Quando si arrivano Tre messaggi concatenati Noi vedremo Soltanto l'ultimo messaggio Purtroppo Mentre qua Avremo la lista Dei messaggi E possiamo rispondere Su entrambi Sia vocalmente Con la dittatura vocale Oppure scrivendo Qui abbiamo la tastiera Tastiera che è davvero Comodissima Qua non c'è una tastiera Ma c'è una specie di tastiera Rapida Dove possiamo Magari disegnare Ad esempio Dobbiamo rispondere Ok Disegniamo la O Disegniamo la K Invia E viene inviato Possiamo inviare gli emoji E l'applicazione messaggi Qui supporta anche Gli iMessage E vedete anche Tutte le animazioni Gli iMessage Quindi diciamo È molto integrato Ma Sostanzialmente WatchOS È un derivato di iOS Tizen Non è Android E quindi Magari Un pochino di difficoltà L'hanno avuta Nel creare Il software Comunque devo dire Che Samsung Ripeto Ha fatto davvero Un ottimo lavoro WatchOS 3 Ha la particolarità Di avere Siri E il comando Hey Siri Hey Siri Si è acceso Si è acceso Si è acceso L'iPhone Va bene Si può lanciare Con Hey Siri Oppure basterà Tenere premuto L'arco orrore Ok Vedete Sentite che Gracchia un pochino Perché Sono uscito a lavorare Mi sono fatto la doccia E deve esserci Un pochino di acquetta Nello speaker È normale ragazzi Non vi preoccupate Adesso non è che mi sia fottuto Lo speaker Siri che è decisamente Più evoluto Rispetto all'S Voice Di Gear S3 Con S Voice Di Gear S3 Potete farci due o tre cose Con Siri Ci potete fare Veramente qualsiasi cosa Ed è Veramente una marcia In più Io Adoro utilizzare Siri Adoro utilizzarlo Sullo smartwatch Ed è una cosa che Mi è mancata Parecchio Su questo Gear S3 Perché comunque Posso tanto Impostare un pro memoria Alla sveglia Eccetera eccetera Però devi dire Delle frasi Ben precise Non delle cose Diciamo Classiche Come puoi usare Con Siri Che dire Questo diciamo Era un pochino Una panoramica Tra i due Non è proprio Una recensore Di Apple Watch Ormai Apple Watch Ragazzi Si conosce Si sa È davvero Un ottimo dispositivo Durato dalla batteria Io con Apple Watch Ci faccio due giorni Non ho la possibilità Di avere lo schermo Sempre acceso Come accade Su Gear S3 Adesso in questo caso Si spegne perché quando non ce l'ho al polso Questo si spegne Se questo lo utilizzo con Always on display Mi dura due giorni Se lo utilizzo Senza l'always on Riesco a farci anche Tre Barra Quattro giorni Apple Watch Ci riesco a fare Due giorni Due giorni pieni Arrivo alla sera Del secondo giorno Che ho circa il 10% Quindi comunque 48 ore Si riescono a fare Tranquillamente Se poi magari Alla sera lo spegnete Riuscite a farci anche Tre giorni Magari andate a letto Lo spegnete Riuscite a farci anche Tre giorni Entrambi hanno la sveglia Quando suona Vi vibra Molto bella La sveglia di Apple Watch Perché se Lo attaccate Alla corrente Alla corrente Adesso Mettete nella sua basita Di ricarica magnetica Lo mettete così Appoggiato Qua vedrete la sveglia E basterà dare anche Un colpetto sul comodino Per accenderlo E vedere che ore sono Con una modalità Che non vi Illumina tutta la stanza Ma davvero molto Molto Poca Diciamo Per quanto riguarda La luce Quindi il fogliatino L'ho letto tutto Che dire Bello Sinceramente Io mi sto trovando Molto molto bene Con Apple Watch Adesso lo vado a mettere Al polso Ma comunque Devo dire che Non mi trovavo Assolutamente male Con il Gear S3 Di Samsung Ho preso Apple Watch Perché La smartwatch È quell'oggetto Che quando non ce l'hai Dici Ma che minchiata Cosa mi sto a mettere Una cosa così al polso È quando ce l'hai Che poi Non ne puoi più fare a meno Io ragazzi Vi ho avvisato Guardate un pochino La differenza Tutti e due Come ho detto Ottimi display La differenza Qual è È che anche adesso Il prezzo Gear S3 Si trova in offerta Circa 269 euro Questo costa una fuscilata Ragazzi 409 euro Ma anche questo costava 409 euro Quando è stato lanciato Oramai è vecchio di un anno Ma come ho detto È davvero un ottimo dispositivo Questa doveva essere La recensione Dell'Apple Watch Serie 3 Invece è diventato Un elogio Al Samsung Gear S3 Quindi conclusioni Beh Se avete un iPhone E volete uno smartwatch Gear S3 Samsung Beh Scusate Apple Watch È veramente L'estensione Ideale Del vostro dispositivo Funziona davvero Molto bene WatchOS È sempre più Completo Bello Mi piace Ci sono tantissime applicazioni Ed è veramente Un'estensione Del vostro dispositivo Perché ci sono tantissime cose Che potete fare Senza estrarre lo smartphone Dalla tasca Ma questo lo potete fare Anche con Gear S3 Magari non potete fare Tutte le cose Che potete fare Con Apple Watch Ma devo dire che Complimenti ancora Samsung Perché è riuscita A fare un buonissimo Ecosistema Per i suoi dispositivi Samsung E questo è il Note 8 Che entra Ciao ragazzi Ciao da Diego Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Adesso Ciao a tutti